Ti vedo strano! Sono gassetissimo! Come mai? Oggi ho conosciuto un tipo che si chiama G.C.J. E dove? Su Facebook, fa una radio ragazzi! E ci fa schiattare da ridere! Ah, tua moglie non ti dice niente! Ma va, mia moglie è gassetissima! Da quando lo ascoltiamo siamo ringiovaniti! Da lunedì alla domenica con G.C.J. su Facebook! Cambio automatico 9 marce Gabinetto portatile incluso Porta ombrelli Volante anti sudore Ventola anti scoregge E nastro adesivo per suocera assillante Nuova Jeep la Cina Prezzo chiave in mano A partire da 10.000 euro Se ti fai prendere a schiaffi per un minuto da... Sono Vito da Pizzo Anziano novantenne Ti aspetto tutte le domeniche nelle concessionarie Scrittore, guida, maestro spirituale con noi su Radio Facebook Manuele Dalcesti Buonasera e benvenuto Buonasera ragazzi mille per la disponibilità Un excursus della tua vita per coloro che ci ascoltano su Radio Facebook Manuele? Una cosa lunga, finché utilizzo il più possibile Lavoravo nella casa editrice Venivo pagato tutto bene Sembrava il lavoro della mia vita Mi alzavo che non avevo più gioia Ero stressato, non ero felice Cos'ho preso, ho fatto il primo cammino di Santiago Ho andato al lavoro Poi 4 anni da mendicante Adesso ho com'è qua Cosa vuol dire maestro spirituale, Emanuele? Maestro spirituale, vabbè, lasciamo stare i titoli pomposi Diciamo che il maestro spirituale ha l'unico scopo Di riconnetterti con la tua anima Che molto spesso, per varie ragioni, ci dimentichiamo di ascoltare Come è accaduto a me, altronde E ti posso chiedere cosa sono i cammini del lupo? I cammini del lupo, noi ne abbiamo accennato prima Sono questi incontri di amici che hanno piacere a camminare insieme Cos'è la meditazione dinamica Osho, Emanuele? La meditazione dinamica è una forma di meditazione Tradotta, in questo caso posso dire, dal maestro spirituale Osho Che ha il comunitario della meditazione che conosciamo noi Emanuele è molto statica In cui ci viene il punto in bianco Di rimuovere i tuoi pensieri Come se fosse una cosa volontaria La meditazione dinamica invece parte dal presupposto Che i pensieri possono essere eliminati Solamente eliminando l'energia che li nutre Quindi è una meditazione molto attiva Un punto dinamica In cui si lascia meglio di quello che uno ha dentro Senza addirizzo Volevo chiederti Da dove nasce Emanuele E la tua passione per i lunghi viaggi Queste lunghe camminate? Sai che non lo so Forse è una di quelle cose innate Innate che uno ha dentro Io appunto ho riniziato con il cammino di Santiago Però poi ripensandoci Da quando avevo 12-13 anni Ho abitato a Casa Blanca, a Malaga E ogni sera facevo 12-13 km Quindi vedo che sia una cosa innata In realtà credo che sia tutti ex nomadi rindegati E che questo sia la causa della nostra infelicità Quindi tornando a camminare Ci avviciniamo un po' più a quelle che erano le nostre amici E allora ti chiedo che esperienza ti ha lasciato il cammino di Santiago Emanuele? Beh io ne ho fatti sette Ogni cammino lascio un po' un'esperienza Un'esperienza diversa E' veramente il primo impatto forte Perché comunque non sai niente Io poi sono partito assolutamente Non sapendo praticamente nulla Ogni giorno una scoperta Anche una sfida Perché comunque A tendiniti E a ciocchi vari Insomma Non mi aspettavo Quell'esperienza Quindi è stato Ogni giorno Dovevo scegliere Di continuare quel cammino Oltre a me E' un continuo di venire presente Una scelta continua E' essere continuamente Sul pezzo Ti chiedo Ma di solito Come ti equipaggi Quando parti per un viaggio? Ah guarda Io se posso evitare Ogni tipo di equipaggiamento È meglio Nel senso che comunque Lo zaino Non potremmo essere Troppo più filosofico Ma rappresenta Il peso delle nostre paure Più paura abbiamo Più riempiamo Il nostro zaino E io sto cercando Per il momento Poi se vedrai Che ne sono rimaste poche Quindi metto Pazio Una volta che ho una bottiglia d'acqua Vado ovunque Non ho bisogno di molto altro Volevo chiederti Allora cos'è per te La libertà? La domanda La libertà è Mantenendo saldo Il principio Di non fare male Agli altri La completa È pressione La potenzialità Senza porsi Né farsi Borgere i limiti Questo è l'unico limite Che posso riconoscere Secondo te Emanuele Il silenzio A volte Cosa vuole farci capire? Il silenzio è fondamentale Viviamo in un mondo Che è molte immagini Molte parole Molti chiacchiericci Ma molta poca sostanza Il silenzio è quello spazio In cui cominciare ad ascoltarti In cui Connettersi con te stesso Lo trovo fondamentale È molto È molto Sistemente Abbandonato In questi tempi Si sbaglia sentiero Quando la tua anima Vuol farti sperimentare Nonostante le esistenze Della tua mente Una tua affermazione Se ce la vuoi spiegare No Beh diciamo che La nostra mente È nata Per farci sopravvivere Farci sopravvivere Significa Mangiare Vestirsi Ma anche spesso Seguire Quella caratteristica La tua sicura Fare quello Che fanno gli altri Non seguire Se stessi Ma quello Che ti viene dal posto Non posso Tantemente Dimenticare Ne stessi L'anima Si mostra di ignoto Vive di nuove esperienze Sogni Da realizzare So che hai scritto Anche qualcosa Sì Adesso sto lavorando Su questo libro Che si chiama La dittatura dell'anima Quindi sostanzialmente Scrivo Tante prefazioni Di libri Altre vuoi Cosa pensi Emanuele Della giustizia Di oggi Nel nostro paese Ma non so Siamo in un paese In cui I massacatori Di stessi Sono libertari In cui I migranti Vengono lasciati Fare Ma per te In questo momento Italia Giustizia Non so Parole che vanno Molto da forma Progetti per il futuro Di Emanuele Diciamo Vivi giorno per giorno Ecco Che non mi piace Particolarmente In modo più bello Dai Non per farlo originale Ti dico La capitale dell'Estonia Che è Tallin Che mi è rimasto Molto dal cuore Quali sono i dettagli Che ti hanno colpito Particolarmente? Ma il colore del cielo Nel senso Siamo Siamo Bene Sotto l'antico Già quello del cielo Meraviglioso Perché è un blu Che qua Non esiste E poi Ti ritrovi appunto In una capitale In una capitale europea E Quelle che conosciamo Sono tutte Chaos Stemati E invece C'è un centro storico Che potrei definire Bucolico Sembra veramente Di essere In altri tempi E questo Mi appassiona molto E per esempio Parliamo di una capitale europea Non di Non di Paesivo Di campagna Come magari Potremmo ancora Trovarlo qua Un'ultimissima domanda Di solito Cosa ti ispira A partire? L'insoddisfazione Che comincio a sentire A stare Quando sto troppo fermo Una cosa Che non posso Non posso controllare A un certo momento Sento proprio Che è arrivato Il momento di partire E scelto di fare Ma tutto il tempo possibile Un viaggio a piedi In Calabria Ti è mai Balenato Così da fare? Beh Honestamente Non ci avevo mai pensato So che La fila Viene Un luogo Che Ha abbastanza Fascinante Per quelle che sono Le mie Inclinazioni Quando troverò Qualcuno Che mi farà Da guida Volentieri La fila è vista Un po' Come la Svizzera Calabrese Ecco Ci mancherò Grazie a te Un caro Un bacio a te Ciao 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 Grazie a te Eccetera Grazie a tutti.